Siamo in diretta dalla Fiera Meet di Sabigliano, questo ultimo giorno, questa domenica, la concludiamo così con il sole, ma Simone è una cosa da ricordarvi? Ah certo, perché è vero che siamo in diretta dalle 16 alle 20, quindi potete venireci a trovare nel nostro stand, appena entrate ci trovate, quindi non dovete neanche fare troppi giri, cercare noi, siamo qua, sicuramente, tanta musica, ma poi noi dobbiamo dare un altro appuntamento, quello di martedì mattina, Ariely non lo sa ancora, ma tanto lo sa adesso, va bene? E quindi martedì mattina come sempre la nostra diretta, che partirà alle 9.30, quindi vi aspetti sul canale YouTube, ma di cosa parleremo? Parliamo di carne, parliamo di carne, in chai, e chissà quale carne preferite, quindi magari visto che siete un po' da ogni parte del mondo, magari ci dite anche la vostra e potremo conoscerla anche in qualche razza che ancora conosciamo. Dopo tre giorni sei diventata un'esperta, diciamo, una full immersion di carne. Una full immersion di carne che sia ben, 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 assolutamente, come piace a me. Allora diamo la cosa, sì, vai, aspettiamo, ciao.